Musica Bella raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale Quest'oggi ragazzotti miei video molto particolare, infatti mi trovo sia su Brawl Stars che su Clash Royale Se mi vedete in un modo differente da Brawl a Clash è perchè sto usando due webcam diverse dato che non potevo usarne una per due Comunque a parte questo, quest'oggi ragazzotti miei siamo qua per fare una cosa un po' particolare Visto che spesso mi chiedete di portare Clash Royale, ma su Clash Royale raga non so mai che portare Quindi turniamo Clash a Brawl Cos'è che faremo? Io avvierò la partita contemporaneamente sia su Brawl che su Clash E dovrò cercare di vincere la partita in tutti e due i giochi Spero che questa idea vi piaccia, se così fossi mi raccomando un bel like che potrei farne anche un altro di video del genere Ma a parte questo, allora io intanto passerei su Clash Royale perchè abbiamo un po' di robetta ad aprire Tra l'altro allora qua abbiamo un premio Vabbè giustamente la season è finita qualche giorno fa Barile barbarico, veleno, cannone a hotel, ma l'epica in realtà col deck che ho non è... cioè non mi interessano, non le uso Però va bene, tra l'altro qua un bowl è leggendario che... possiamo prendere così ragazzi? Non credo però, anche se completo queste sfide... no non ci arrivo Mi non ci arrivo per un pelo raga, mannaggia che peccato Allora intanto raga qua su Clash essendo che siamo un po' bassini di coppe bene o male non dovremo avere troppi problemi I problemi sicuramente li avremo qua su Brul, che tra l'altro qua su Brul è uscita... torrente del test che abbiamo oggi Oddio in realtà su questa mappettina raga... bisogna stare ovviamente attentissimi su spugli però vabbè speriamo raga ce la dobbiamo per forza cambiare qua Comunque ritornando su Clash dovevamo fare questo piccolo box opening Che in realtà qua si chiamerebbe gesto opening ma ok Raga chiaramente qua sarebbe fantastico trovare o i giganti royale che li sto quasi per maxare oppure una leggendaria Andati per il gigante royale frate Dai! No mannaggia guardate quante giganti royale mi mancano Cioè mi mancano neanche 30 e sarebbe anche la mia prima carta maxata quindi tanta roba Allora raga io direi di partire contemporaneamente togliere i tara e mettere shell Proviamo proviamo allora gioca e battaglia vai Allora nel mentre ho già trovato partita da ambedue i giochi E io qua su... fino a quando non sento che il mio avversario piazza una carta sto su Brul Ha messo il draghetto perfetto Fratello voglio prendere solo queste me ne vada no chiaramente no No aspetta 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 devo andare immediatamente su Clash Ha messo il domatore che sta succedendo E qua così Poi... e per ora va bene su Brul che succede niente Vabbè per ora per ora è che non so che fare qua su Brul Non abbiamo neanche una cassa io posso andare a cercare Non c'è niente ragazzi perfetto E già qua la vedo male Allora mettiamo un gigante royale in fondo Intanto carichiamo un po' È su Brul raga e che te ne devo dire Eeeh... Ha messo un pecca aspetta 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 Allora mettiamo sicuramente i sgherri dietro Qua sarebbe davvero meraviglioso Eh per i barbari non faccio in tempo Vabbè torniamo su Brul dove siamo già quinti Miracolo 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 Chissà su Clash che sta succedendo Ma per ora controlliamo che non c'è nessuno qua Non c'è nessuno... ma raga dove sono tutti? E ritornando invece qua Fireball là Potevamo andare anche... Ottimo Fatto benissimo Scherzavo Scherzavo Ok E qua ce la caviamo così Ritornando invece su Brul Eh raga ma io lo... Cioè siamo quarti Non ho fatto assolutamente nulla Che non so che fare No è il primo Brul No 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 Non venire qua Raga non la vinceremo mai nella vita Però vabbè Io intanto vado con un altro gigante royale in fondo Io so che lui comunque al pecca Per cui adesso appena ritorniamo su Clash Dobbiamo stare attenti a sta roba Sì ma non la vinceremo mai su Brul È per me una vittoria Se è un quarto È comunque un più quattro Ma io non posso fare davvero nulla Senza proprio app Niente Oh ti metto i sgherri Ti metto i barbari davanti Li ha messi anche lui Comunque intanto ritorno Vai 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 Ok bellissimo No 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 Mi ha laserato Vabbè terzi comunque raga Non è male Abbiamo fatto un più sei Ora chiediamo qua su Clash Ma dovrebbe essere vinta easy Allora in teoria Adesso la torre dovrebbe andare giù Lui attacca di là Ma Brother Ma non ti serve a niente Ormai A parte che questo è livello 8 Lo buonaccio E vabbè che te ne devo dire Vabbè io metterei tutto a caso raga Tanto dovremmo aver vinto Attacco di cattiveria sulla torre centrale Non può far nulla lui Quindi Anche se mi fa la torre Anzi meglio che mi faccio tre corone Che per prendere le casse della corona O come si chiama Neanche mi ricordo più ormai E anche meglio Quindi ci sta Vabbè raga Vittorina qua su Clash E più sei Terzo posto su Brawl Come prima partita Non è male Ci può stare Ma andiamo avanti Tra l'altro qua siamo anche saliti di lega Mi fa piacere Allora gioca e battaglia Vai su Vai su Oh comunque raga Se le partite su Brawl Sono così spettacolore Senza aver fatto nulla Abbiamo fatto Tu sei Bellissimo Direi di adottare la stessa Strategia di prima Ovvero che su Clash Mi muovo solo appena sento Ecco Ho già piazzato Uno Spoon Vabbè ce l'ha comunque Livello 8 questo Non è pericoloso Allora brother Io vorrei prendere questa Ok Gentilissimo Ehm Madonna quanto me la sto rischiando Però Va bene Ci siamo fatti il power up Se non ci muoio Sarebbe davvero bellissimo Frate 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 Devo andare assolutamente su Clash Ha messo anche il domatore Occhio Ehm Difendiamo 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 Allora devo mettere Intanto il gigante royal qua Ok Occhio leone Mannaggia il pelo Sono tornato Aiuto Dai brother Non fare Per favore Per favore Controlliamo i sespugli Ok Ehm Che succede intanto qua Io vado di sgherri Anche se non serve Ritornando invece su Brawl Siamo settimi Con due power up Abbiamo la ulti Dai giochiamo solo bene Ragazzi Qua intanto ti butto La fireball là Perfetto Vieni 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 Vabbè La dovrei fare comunque Bellissimo ragazzi Dai raga Non buttiamola Che questa è davvero ottima Questa è davvero ottima Qua ti vado di barbari E basta in realtà Su Oh mamma Questa è una per power up Aspetta però Aspetta vieni vieni Ma eh ragazzi Se si fosse avvicinato Era fatta E che succede Su clash Perfetto E io proverei ad attaccare Con il gigante royale In questo modo Ok ti piazzo Un tronchettino Qui e Vabbè No 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 Occhio 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 Madonna il pino Sono arrivato Oddio dio Merga Potevo farmelo Mannaggia Per un piripillo E vabbè Comunque qua No abbiamo perso No abbiamo perso Mannaggia Vabbè Nel mentre io qua Prendo questa boxettina Gigante royale Frate Voglio maxarmeli Mannaggia Perché non me li vuol dare Vai gioca E battaglia Dai su Dai su Dai su Ok già contro Su clash Ho a livello 10 Su brawl Non sono manco partito Ecco sono partito ora Ci ho messo due anni Allora Se io riuscissi Intanto Ad andare su Di power up Come abbiamo fatto prima Sarebbe chiaramente spettacolare Io parto dal momento In cui sento I rumori di là Adesso però Dobbiamo stare più attenti Raga Perché se questo è un livello 10 Potrebbe darci più filo da torcere Però lui ancora Non ha messo nulla Fantastico Non ha messo nulla Noi siamo a 3 Ok dovrebbe aver messo qualcosa Io però vorrei Aspetta 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 Devo camperarmi un attimo Ha messo la furia Che ha messo Che sto succedendo Eeeh Mi ha laserato No Aspetta Devo ritornare qua Assolutamente io Aspetta brother Aspetta Ma da quanto Raga devo assolutamente Fare qualcosa qua Su Su brawl Non ci sta capendo nulla Ragazzi letteralmente E' che Nel senso Si pal Ops No 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 Si 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 No Allora gioca E battaglia Raga mi posso assicurare Che è un macello Io non so Se vi ho messo Anche i tentativi precedenti Perché Non ho fatto nulla Di interessante Però ho visto Che su clash Intanto abbiamo Un livello 8 Fantastico Aspettiamo Ok ho già messo Il baby dragon Eeeh Vabbè livello 8 Raga quindi Credo che Possiamo andare tranquilli Ma ovviamente Eeeh Ti metto il gigante Royale Eeeh E gli sgherri Dietro Ok ritorniamo Su brawl Eeeh Se dynamack Si avvicinasse qua Ragazzi Sarebbe fantastico Vieni brother Vieni 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 Anche tu Leon Vieni 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 Grande Bravo Bellissimo Fantastico Dai brother Ok 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 Va bene va bene Occhio a scegli Occhio a scegli Occhio a scegli Non so cosa Stia succedendo Su clash Però Ok fa vedere Ma ho messo Il mondo ragazzi Tronco immediatamente Eeeh Qua su brawl Per ora sta andando Tutto bene Mi sta laserando Mannaggia lui Devo Occhio 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 Ragazzi non si sta capendo nulla È un caos incredibolo questo Lasciami in pace Però per favore Allora devo attaccare Vai ti metto il gigante royal Ti metto gli sgherri centrati E ok Ritorniamo su brawl Spero che questo attacco Vada a buon fine E Bella per scegli Che cosa stavi facendo qua Mannaggia te Eh scegli Guarda in realtà Se riesco a pressare un po' Potremmo chiuderla In qualche modo Eh eh dai Brother Che succede intanto su brawl C'è la strega Qua vado di tronco Qua vado di fireball Spettacolare Ok Perfetto Lasciamolo fare Ritorniamo qua su brawl Che c'è un frencone Bella brother Bellissimo Ok Bellissimo 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 Sianzesti Quattro power up Ritorniamo su clash Mi ha fatto la torre Lui mannaggia Devo concentrarmi di più Su sta partita di clash L'ho messo presto il Vabbè no In realtà va bene Dai Ti piazzo il gigante royal adesso Su clash raga Io per l'ora Stare campionato Qua è che vorrei prendere La ulti Però Vediamo ragazzi Vado di sgherri E si può fare Ragazzi Si può fare Meno male che L'ho visto in tempo Raga occhio Che qua siamo nelle parti finali Anche su Oh quanta roba mi ha messo Su Coso Su clash Vado di fireball No Oddio la safe Occhio 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 Devo attaccare Su clash Ragazzi Devo attaccare Devo attaccare su clash Devo attaccare su clash Devo attaccare su clash Che sta succedendo E vado di Strigone elettrico Madonna Raga 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 Gigante royale immediatamente Vado di Stregone Non è vero Dai che la vinco Raga la vinco La vinco La vinco Dai Oddio benissimo L'ho vinta Oddio Aspetta 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 Basta vincere ora Come termina Ok termina tra 17 secondi Raga 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 Si può fare Si può fare Vado di barbari qua Molto random Dai raga Dai raga Anche se ce la chiudiamo Così è spettacolare E allora Vado di Strigone elettrico Ormai vado tutto Sulla torre Centrale ragazzi Dai 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 Devo impegnarmi ragazzi Si può fare Sono messo mille volte Meglio io di lui Non scherziamo Per favore Vado di tronco Di qua Ti caccio No però la fireball Lasciamo stare Ehm Ok ok Gelo buttatissima Bella per lui La mia menta Su Si ok No mi è venuto per un attimo Il dubbio Oddio raga La vinciamo così Me lo vuoi dire Proprio in questo modo Brother Me lo vuoi dire Proprio in questo modo Brother Io attacco Come se non ci fosse un mani Ti metto una bella fireball Di qua Sgherri di qua Riga vinta Vabbè ammetto che comunque Questo qua per carità Se l'ha giocato bene Qua purtroppo Cioè Per mia fortuna Lui essendo di livello Molto basso Rispetto a me Non poteva fare troppo Qua anche se fa sta mossa Non può mai nella vita Fare nulla Però se avevamo il vantaggio Qua su clash Su brawl Non eravamo per niente Avantaggiati ragazzi Cioè su brawl Mai nella vita Eravamo avantaggiati Quindi sono contentissimo Così Si raga Bellissimo Bellissimo E dai Vabbè raga Sfida completata Non ci credo manco io Ma bellissimo Se volete altri video Di questo genere Mi raccomando Lasciate un bel like Iscrizione Campanellina Noi come sempre Ci mettiamo alla prossima Con un nuovo video Bella raga Grazie a tutti